L'articolo di Sardegna che è questa, che è questa, che è questa. Che al signore no, no, mio padre si imbarava sotto la banda e tutte cose. Però gli strumenti non sapevano le truppe che gli dava, ma gli s'avessi mai, ma gli s'avessi mai avuto le truppe. E' imbarava, si imbarava, un po' di carina, un po' di carina, una o carina. Cos'è inizia da allora, e non ci sta imbarando tutti i nostri, non teniam meglio, faccio due sparpare, faccio due sparpare, ma una, faccio, ma che non fai a sonare tutti i miei? E che lo sapevano? E non so, ma è un ottimo. E poi, gli s'avessi mai sonato? Ah, tutti i nostri. Tutti i nostri. Salute a tutti i i musicanti che si vieno a amparare, tutti i nostri amici, sono a mio padre, un po' di carina, e poi faccio tutto il mondo, e poi faccio tutto il mondo, e poi faccio un po' di carina, e poi faccio una cosa magnifica. Bora a prendere, professor. Grazie. Grazie. 1, 2, 3, 1, Grazie a tutti